Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul canale per un nuovo video, per un nuovo tema di calcio mercato aspettando di poter parlare finalmente di calcio e facciamo calcio aspettando di poter parlare finalmente di calcio giocato di quello che ci piace a noi dell'azione, della critica, dell'errore, della formazione sbagliata della formazione azzeccata questo, questo e questo fatemi un piacere prima di iniziare il video iscrivetevi al canale, qui sotto c'è l'iscrizione dobbiamo arrivare a 11.300 ne mancano un'ottantina 11.300 per l'inizio del campionato mettete mi piace al video, condividetelo voglio parlarvi di chiesa sapete che ieri è uscita questa notizia di Ramadani, che è rappresentante di chiesa che l'avrebbe offerto al Milan, che avrebbe contattato il Milan per offrirlo e io vi dico subito non ci credo è una notizia alla quale io non credo minimamente la ritengo una palla e vi spiego anche il perché prima di tutto perché il Milan in quel ruolo è coperto perché c'è Leao, c'è Sale Makers, c'è Okafor quindi vogliamo andare di là c'è Ciuqueze, c'è Sale Makers c'è potenzialmente Pulisic se non viene usato trequartista quindi Milan può anche fare dell'investimento in quel ruolo ma non dell'esborso economico di chiesa il cartellino è sicuramente un'occasione quello sì perché chiesa secondo me dopo che la Juventus l'ha messo sul mercato in modo aperto, in modo palese non può essere pagato più di 20 milioni ma le richieste di chiesa sono folli cioè chiesa pensa ancora di essere quello dell'europeo ma sono passati tre anni e corriggetemi se sbaglio per quanto sia un ottimo giocatore un bravissimo giocatore ma dopo l'infortunio non ha mai avuto quella stagione da valere quelle cifre che chiede cioè chiedere 6, 7 addirittura ho sentito parlare di 8 milioni di euro sono cifre folli e il Milan oggi i titolari ce l'ha apposto in quel ruolo e spendere queste cifre di ingaggio per un'alternativa non è nelle idee del Milan chiesa proposto al Milan mi sa di notizia notizia non capita cioè nel senso il Ramadani secondo me avrà anche chiamato il Milan ma per parlare di qualcos'altro per parlare magari dell'uscita di Jovic per parlare di qualcos'altro non di chiesa perché il Milan ora come ora a parte che ha dei rapporti ottimi con la Juventus e fare questo alla Juventus magari perché ho sentito parlare di il Milan ci lavora a zero per l'anno prossimo sarebbe uno sgarbo no la Juventus gradirebbe sicuramente che un club oggi andasse e pagasse il cartellino di chiesa e si accordasse col calciatore perché? perché già chiesa non si sta comportando benissimo con la Juventus cioè ha rifiutato quel rinnovo ponte o non ponte che sia per andare poi a scadenza l'anno prossimo e chiedere di più di ingaggio quindi è legittimo che la Juventus dica ok vuoi rimanere qua a fare questo però sappi che non vedrai il campo che non vuol dire metterlo fuori rosa perché si allena e viene pagato quindi si rispettano tutte le normative del caso però sappi che non giochi sappi che sei fuori dal progetto tecnico della squadra io a chiesa al Milan posso credere se mi iniziano a parlare di Salemakers in mezzo perché c'è Tiago Motta di là allora posso iniziare a crederci se esce qualcuno ma ripeto alle cifre che sto sentendo in giro le richieste di chiesa non sono per niente compatibili con quello che è il mercato del Milan con quello che è sempre stato il mercato di questa società quindi è per questo che questo video ha tardato ad arrivare perché ho voluto chiedere ma vi dico che io Luca non ci credo mi possono pure dire può venire pure furlare a dire mi sto trattando a chiesa io non ci credo perché non è nella caratura del Milan in più sarei anche contrariato se il Milan spendesse per il cartellino di un giocatore nel ruolo di chiesa non di chiesa nel ruolo di chiesa per quanto sia un'opportunità perché chiesa vale molto di più di quello che lo paghereste questo è chiaro è un investimento che in futuro è fruttifero sicuramente però il Milan deve chiudere il centrocampista il Milan deve chiudere il terzino il Milan deve chiudere la riserva di Morata che è stata espressamente chiesa da Fonseca e allora non puoi a quel punto spendere i soldi in un altro ruolo dove sei già ben coperto non ben coperto copertissimo perché hai valide alternative anche al titolare non è che c'hai solo il titolare devi avere un'alternativa c'hai valide alternative e ne hai più di una quindi se non esce nessuno in quel ruolo non mi potete raccontare che stanno offrendo chiesa al Milan o che il Milan stia valutando questa cosa a zero per l'anno prossimo questo è il mio punto di vista poi chiesa secondo me esce sconfitto da questa situazione perché poteva comportarsi meglio poteva avere dialogo con la società fare il suo rinnovo giocarsi le sue carte in campo rivalutarsi e avere diverse offerte l'anno prossimo se oggi ti sta cercando solo la Roma è perché non hai dimostrato nulla negli ultimi tempi capisco che ragazzo non voglia andare a Roma ma quando arrivi al punto in cui hai rotto praticamente con la tua società rifiutando il rinnovo ti hanno venduto alla Roma e tu rifiuti perché vuoi fare la Champions ti stai sopravvalutando cioè quando tu arrivi a quel punto là devi fare un passo indietro chiesa devi fare un passo indietro e dire ok adesso io devo dimostrare che valgo quei soldi non puoi pretendere i soldi senza ancora averlo dimostrato sì l'hai dimostrato di valere forse più di quello che chiedi ma tre anni fa tre anni fa e nel calcio tre anni sono un'era geologica non si può pretendere di essere pagati per cose che si sono dimostrate tre anni fa sei un ottimo giocatore fai bene a credere in te stesso però ti devi mettere in gioco e magari quel post di ieri con la maglia della Juve i colori bianconeri dove magari vuoi ricugire un po' lo strappo è forse l'unica cosa giusta che stai facendo dall'inizio di questa situazione perché secondo me la cosa migliore per chiesa è oggi non ho grandi offerte l'Inter che è l'unica grande squadra in Italia che mi vuole ma non mi può prendere a livello economico benissimo mi gioco quest'anno tutte le mie carte con la Juventus gli faccio il rinnovo gli garantisco che non non mi faccio perdere a zero non gli causo questo problema di perdermi a zero mi gioco le mie carte e l'anno prossimo siccome io so di valere quei soldi siccome io so che arriveranno delle squadre a cercarmi dimosso sul campo che posso avere mercato questo fa uno che vuole gestire correttamente la situazione altrimenti è una cosa furbesca di voler prendere di strappare il contratto a qualcuno e avere tutto soldi Champions League contro Champions League così non va bene così non va bene perché poi gli accordi i contratti si fanno in due il rispetto come la Juventus ti doveva rispettare diciamo includendoti nel progetto tecnico della stagione tu dovevi rispettare la Juventus perché è chiaro che il sentore che tu vuoi andare via a zero dalla Juventus è arrivato anche a Giuntoli è arrivato anche a Tiavomotta ed è per questo che sei arrivato alla situazione di oggi situazione che è ancora ricucibile perché poi nel calcio con i soldi si ricuce tutto se Chiesa rinnova fa questo rinnovo ponte di un anno quindi rinvia la sua scadenza e l'anno prossimo lo possono vendere cambia già tutta la situazione questo è io a Chiesa Almira non ci credo voi ci credete fatemelo sapere nei commenti iscrivetevi al canale mettetevi un piaccio al video condividetelo e sempre sempre forza Milan grazie a tutti